Io sono Dogenza e vieno da Cristiana, mi cura per questo accuramento, quindi è una bella varicella. Guardate un po', è tutta la mia varicella, quindi è tutta la mia varicella, capito? Oh, siete ambaraccianti? Ok, ho fatto una pazza per voi! Uuuu! 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 Stante a letto! Capito? Grazie! Ho fatto i miei diretti, questa è la terribile e potente, e questa è la mia dinamica, che se ne riesca! Devo fare un po' di cacchina, schiaccio questa varicella, ole! Grazie! Grazie a tutti.